Massimo Bitonci, continua l'iter della legge di stabilità al Senato, però si registra un rallentamento da parte dei partiti di maggioranza, ovvero PD e PDL. Perché? Noi per la prima volta oggi siamo stati ricevuti dai due relatori, neppure dal governo. Abbiamo segnalato molti emendamenti, emendamenti per i comuni sul patto di stabilità, emendamenti che riguardano i costi standard, emendamenti che riguardano le problematiche del Nord, la riduzione delle commissioni bancarie, c'è tutta una serie di proposte che noi facciamo, molte di queste anche a costo zero per il governo. Però la cosa incredibile è che in una situazione così difficile dal punto di vista economico, i dati dell'Ox di ieri sono drammatici, avremo un aumento anche il prossimo anno del debito pubblico, supereremo il 145% sul prodotto interno lordo, dei dati e dei risultati veramente pessimi per questo governo. Nonostante questo c'è questo grande rallentamento, è una settimana che si continua a discutere sugli emendamenti senza neanche una votazione, si va agli accantonamenti, speriamo che si arrivi in votazione almeno domani. In realtà il governo non sa cosa fare, forse solo oggi o domani mattina saranno presentati gli emendamenti da parte del governo su quelli che sono i temi più importanti, non solo sul finanziamento per quanto riguarda la gravissima alluvione che è successa e che è occorsa in questi giorni in Sardegna, ma tutti i temi relativi alla tassazione, alla Tasi, alla Trise, alla TUC e come la vorranno chiamare, cambiando solo il nome di questo governo.